Apertura doverosa con l'atletica leggera, pronostico rispettato ad Agropoli in provincia di Salerno. Idea Pieroni della Virtus Ducca ha vinto la gara di salto in alto conquistando il titolo tricolore allieve. L'atleta barghigiana è entrata in gara a 1.66 e poi ha proseguito nella serie senza intoppi fino all'1.81 che le ha dato la medaglia d'oro. Sicuramente un buon viatico in vista dei campionati europei di luglio. A fine gara, grazie al vice direttore tecnico della Virtus Fabio Pierotti, abbiamo raccolto queste impressioni che ci giungono da Agropoli e dalla campionessa italiana Idea Pieroni. Ciao Idea, complimenti per il titolo italiano, soddisfatta della tua gara, della misura e del titolo. Sì, sono soddisfatta, la misura, volevo tornare sopra l'1.80, ci sono tornata, in queste gare è importante vincere, il titolo è fare una bella gara, l'ha fatta. In previsione degli europei, siamo in dirittura di arrivo, sei fiduciosa? Diciamo che mi piacerebbe più andare a Bacu all'Andal 18, lei ho così a Boras, però non lo so dove mi manderanno, speriamo bene per le cari. Va bene, ciao Idea, complimenti. Complimenti naturalmente a Idea Pieroni, ancora atletica Giacomo Barontini della Sempre di Corsa Livorno, ha vinto la Lucca 5K, un giro di mura tutta, corsa podistica organizzata da Lucca Marathon. L'atleta livornese ha coperto la distanza in 15.58, ha preceduto Federico Meini, atletica Livorno, e Federico Matteoni dell'Orecchiella, in campo femminile successo di Fiorenza Pierli, calcestruzzi Corradini, col terzo posto di Denise Cavallini dell'Ammari. Ancora atletica, atletica Pietrasanta, i giovani atleti versilesi hanno ben figurato al trofeo Coni di Fucecchio, ragazzi e ragazze, quattro gare, il Tetathlon da svolgere con diverse tipologie di gara. Allegra Caccia, Alice Cantini, Eleonora Giannelli, Pietro Giorgio, Alessandro Levi, Alessandro Politi hanno disputato buone gare, un plauso particolare ad Eleonora Giannelli che ha portato a casa un quarto posto assoluto. Siamo al calcio, da sfinimento quello che hanno vissuto i tifosi della Lucchese da qualche mese a questa parte, unica parentesi, il campo è una squadra che sul campo ha saputo conquistare una meravigliosa salvezza. Sul resto di parole ne abbiamo usate e tante ne vengono usate anche in queste ore. Lunedì, quindi fra poche ore, la scadenza per l'iscrizione che pare davvero complicatissima. Si fanno percentuali, 30-40%, a noi francamente pare tutto allucinante. E fino a prova contraria vogliamo conservare un barrume di speranza. Se poi vogliamo essere pragmatici, e questo lo diciamo senza piedi sulla lingua, forse sarebbe meglio ripartire da zero e riuscire con gente finalmente appassionata e che ha voglia di fare le cose in un certo modo, magari a disputare una serie di... Ma anche lì i tempi sono strettissimi, per non dire impossibili, tanto che a questo punto, e siamo all'inizio di un'altra estate di passione per i colori rossoneri, la sensazione è che il calcio a Lucca potrebbe ripartire dai dilettanti e forse quel giorno, concludiamo, molte persone dovrebbero fare un serio esame di coscienza. Torniamo in studio per dirvi che purtroppo in gravissime condizioni Luigi Simoni, 80 anni, ex allenatore anche della Lucchese, guidò i rossoneri nella stagione 2005-2006, Simoni è ricoverato in gravi condizioni, come dicevamo, all'ospedale Cisanello di Pisa. Ed ora siamo al Tao Calcio che giocherà il prossimo campionato di eccellenza dopo la fusione col Vorno. Non una semplice cessione del titolo sportivo, ma una vera e propria sinergia tra due delle società più importanti della provincia, capaci di combinare il settore giovanile del Tao con il titolo sportivo del Vorno. Alla guida, in qualità di presidente, ci sarà Antonello Semplicioni e la società continuerà a chiamarsi Tao Calcio Alto Pascio. I dirigenti sono già al lavoro per allestire la squadra e lo staff tecnico. Allenatore sarà ancora Pietro Cristiani, la conferma del tecnico, già la guida del Tao in prima categoria, si è basata sulla capacità di lavorare sul campo e di saper crescere giovani. A Cristiani si affiancherà un veterano di serie di ed eccellenza come Federico Bargellini. Direttore sportivo sarà invece Maurizio Dalporto, che già ricopriva questo ruolo nel Vorno. La società ha anche ufficializzato i primi tre colpi di mercato per la prossima stagione. Si tratta di Elia Chianese, centrocampista offensivo con una lunga esperienza tra C1 e C2 anche nella Lucchese, che arriva in Amaranto dopo una stagione da protagonista del Giviborgo. Insieme a Chianese a rinforzare il centrocampo ci sarà anche Tommaso Gialdini, altro elemento di esperienza che può bantare una lunga carriera tra C e D, con le maglie tra le altre di Alianese, Montemurlo, Valdinievole, Montecatini e Tutto Cuoio. Il terzo nome riguarda invece il reparto arretrato. Si tratta del giovane Jonathan del Sorbo, coriaceo centrale, classe 97, in arrivo dal Ponte Bugianese. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, il Tau è intenzionato a ricoprire un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di eccellenza. Il tennis Tatiana Pieri era impegnato oggi nella semifinale del torneo da 25 mila dollari di Padova. La ventenne tennista lucchese affrontava Martina Caregaro. Nulla da fare purtroppo per Tatiana, sconfitta in tre set, 1-6, 6-4, 1-6. Resta comunque l'ottimo torneo disputato dalla più piccola delle sorelle Pieri. Siamo all'Hockey e su pista. Il commissario tecnico Massimo Mariotti ha scelto i 10 atleti che rappresenteranno l'Italia World Rollers Game di Barcellona. Da lunedì al centro federale Matteo Ricci di Camaiore si riunirà ufficialmente la nuova nazionale Under-19 di Hockey su pista, che poi mercoledì partirà alla volta della Catalogna. La Versilia delle Rotelle sarà rappresentata da un solo giocatore, Mattia Spagnuolo, dell'SPV Viareggio. L'Italia, ricordiamo, è inserita nel girone A con Portogallo, Stati Uniti e Colombia. Ciclismo, ancora un ottimo piazzamento per gli atleti di Amore e Vita a Prodira al Tour de Savoie Mont Blanc. Marco Tizza ha infatti sfiorato la vittoria nella terza tappa vinta allo sprint dal francese Eddie Finn. Vediamo appunto la volata, Tizza è proprio dietro il vincitore. Da segnalare il terzo posto in classifica generale di Pierpaolo Ficara, sempre di Amore e Vita a Prodira, a 1,48 dal leader Colin Stussi, lo svizzero Colin Stussi. Sempre ciclismo perché il Giro di Toscana Internazionale Femminile, non di quest'anno ma del 2020, dovrebbe tornare a quattro tappe. Vi spieghiamo perché nel servizio. Il Giro di Toscana Internazionale Femminile, 6-8 settembre, proporrà la ghiotta novità dell'arrivo a pescia della terza ed ultima tappa. Tutto ciò anche per ricordare con maggiore forza Michela Fanini, alla quale del resto da sempre è dedicata l'intera manifestazione. Proprio nella città dei fiori, l'indimenticabile campionessa lucchese vinse il Giro d'Italia, pochi mesi prima della sua tragica e prematura scomparsa. Era il 1994, quindi 25 anni fa. Sembra passato un secolo. E a proposito di 25 anni, nel 2021, il Giro di Toscana festeggerà le cosiddette nozze d'argento di una competizione che per un lungo periodo ha rappresentato una vera e propria anteprima del Mondiale e che Patron Brunello non ha voluto assolutamente mollare, nonostante le tante oggettive difficoltà di questi tempi. Insomma, una ricorrenza che andrà onorata e alla quale ci si sta lavorando alla cremente. Possiamo infatti anticipare che, salvo colpi di scena, la 25esima edizione del Toscana Femminile nel 2020 tornerà a quattro tappe. Per la frazione in più ci sono in ballo due zone ben distinte, ma ugualmente legate dalla comune passione per il ciclismo. Due territori non molto vicini tra loro, parliamo della Val di Nievole e della Valle del Serchio. La scelta non sarà facile e sicuramente sarà ben ponderata dagli organizzatori. Qualunque sarà la decisione, si tratterà senza dubbio di una tappa interessante sia dal punto di vista tecnico che paesaggistico. Un Toscana che vuole proseguire nella sua storia e nel suo messaggio dettato dal ricordo di Michela. E con questo servizio si chiude anche la pagina sportiva, ci fermiamo per un'altra interruzione pubblicitaria e torniamo con la terza ed ultima parte. Grazie. Grazie.